Cosa è strade Allora, Zack Zack Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti a questo Nuovissimo video Su Minecraft, cosa vola? WTF, che vola? Raptor, i shit Vola! Eh, vedi la chat WTF La chat Ah, mortaccito Non l'avevo detto Non l'avevo detto Non l'avevo detto Allora, stavo nel server che si chiama Ehm Si chiama? Come cassa si chiama? Ah, Sky Ghost Sì, Sky Ghost Vabbè, server Ghost War Ghost War Sky Ghost Si chiama Sky Ghost Quindi vabbè Sì, ma Sky Ghost Non c'è un cazzo Vabbè Tra circa un mese aprirà il nostro nuovo server E si chiama Sky Ghost Certo Però mi raccomando, per entrare Minimo donazione di 100.000 euro Raptor dove sei? Sua luna Ok, io regalo non so buono Poi trovare una roba decente E niente Finanto so che morirò Instant Colui che muore Che ho detto M'ha lasciato con mezzo cuore Grazie Come hai lasciato con mezzo cuore? Che cazzo hai fatto? Luggy block M'è stritta sul culo Questo qua mi ammazzerà al 100% Una chest grande Roba inutile Uh, il latte Siamo pari i biscotti Siamo pari i biscotti Allora Cope qui Raptor sta male Sono invisibile Sto andando da questo A rompergli il bucio del culo Lì c'ha le uova Come fa le cose tipo pro? Ma non c'ho i blocchi Ma sono coglioni Ma le uova non ti fanno spingere sotto? Sì eccolo 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 È uno che ho buttato giù Eh la scivolo No, per dire che ho dato una ghilla a te A me Ah no no Che non ho niente Cosa io sono tipo nell'Africa Ah ecco Raptor addio E tu ha visto? Porca puttana Mi scudo Cazzolo sta a fare una AAAAAA goatsca prendere Preso Ma sei preso a me Eccolo Preso Preso hai metto il cazzo te qua dietro pezzo di cazzo oh 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 non vale dobbiamo uccidere prima lui poi si possiamo qualizzare contro il grande regno nero uh che figo che figo e cioè e la madonna come cazzo ho fatto a volare in aria ma poi subito sono stato in africa pure io what? che cazzo è successo scusa? ma che cazzo ne sa? sono volato in aria ma io pure guarda che cazzo ho fatto guarda che è il pisallone che ho fatto di ghiaccio che cazzo hai fatto? eh c'è avuto sta roba qua questo tizio mi ha buttato in aria ma è affanculo di sotto oddio so l'abbiamo ricevuto perco due che cazzo è successo? che cazzo è esploso chi è che è esploso? io ho fatto esploso si è esploso si è esploso ti vedi sto da solo no no stiamo con l'ozio lollo due 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 oh ma quanta via c'hai benvenuti in un nuovo episodio di superquark il kit volpe comprende un elmo in pelle per uno una pozione di invisibilità di tre minuti bevibile per otto una spada in pietra per uno ciao lollo ciao lollo ciao ciao il fan ciao io malo ma cazzo intanto l'ora su una cosa cazzo sveglia che ha tirato potrei essere cattivo con i miei iscritti gravità zero non è buono la madonna e morirò al cento per cento porco due che cazzo hai fatto? non è che sono morto ma c'ho un hp cioè ho mezzo cuore ma che dici se vado dall'altra parte e muoio cosa fa la legna che cazzo stai a fare raptor si trova re dei ghiacci ma tu diventa per esempio per il giro del cazzo più a pure re dei ghiacci ma stronzo mettino strumentino ma doveva buttare un bimbo nel panino scusa ma quello del cazzo ma quanto sotto mamma io ho troppo forte l'attore c'è tappo hai fatto ho fatto spawn al gino gino il po' il pubazzino che cazzo oh a merde a merde il gino diventa cattivo infatti si è esplosso ma che cazzo sono le bombe nucleari c'hanno in mano c'hanno le bombe nucleari questi in mano non c'hanno le pade di neve cazzo nienta ragazzi anche questo primo episodio sui skywatch con raptor è finito per la canale lasciate un bel like e nel mercato in descrizione troverete il server l'ip del server è scritto bene non ho detto all'inizio il serben e niente ci vediamo alla prossima bella ponna ma mi sa che troppi persone ci sono bella bella ci stanno seguendo tutti evadiamo evadiamo subito perché ci ho detto tipo 26 persone che mi seguono qualunque punto io faccia ok evadi evadi evado evado